Vi è capitato di accorgervi che non sappiamo più parlare fra di noi? La colpa la possiamo dare a chi vogliamo, ma alla fine è nostra. Dobbiamo imparare da capo. Allora lasciate che questo ragazzo autistico vi proponga sette regole. 1. Ascolta. Per qualche motivo oggi abbiamo tutti voglia di parlare. Prova a far conto invece che da chi ti parla proviene la vita. 2. Protenditi verso di lui e quello che dice come se dalla sua bocca uscisse l'acqua e tu fossi nel deserto. Sei così sicuro di aver ascoltato quello che ti dice se mentre ti sta parlando tu stai già pensando a cosa risponderai, a come fare bella figura, a come avere un trionfo eristico su di lui? Regola numero 2. Ascolta. Non crederti superiore. Se ti credi superiore non stai ascoltando. Se io sono niente, allora presterò più attenzione e non avrò preconcetti. Perché il dramma di oggi, tra l'altro, è che siamo tutti dei buffoni, presuntuosi e montati. Abbiamo già deciso come funziona il mondo e già sappiamo cosa ci sta per dire il nostro interlocutore. Sappiamo già tutto. E allora che serve ascoltare? Ascolta tutti. Tutti ti possono insegnare. Anche un'analfabeta, anche un sasso, anche un atomo, anche una lucertola ti può insegnare. Se non sai imparare, è un problema tuo. Regola numero 3. Non parlare troppo. Hai mai visto certe conversazioni ai tavolini di un bar o dei tuoi vicini al ristorante, dove di due persone ce n'è solo una che parla sempre e l'altro avvizzisce piano piano come una candela che si sta consumando. Perché vuoi essere come loro? Regola numero 4. Non parlare troppo. Non riempire il tuo interlocutore di particolari che interessano solo a te. Aspetta che giorno era, era prima di sabato, però veramente non ci interessa. Dici il fatto. Di cosa stiamo parlando? Qual è il TST della conversazione? Vai al punto. E non ripetere le cose che hai già detto. Perché sei così bisognoso e insicuro? Se una cosa l'hai già detta una volta, è sufficiente. Io lo so perché molti ripetono spesso. È perché nessuno li ascolta. E soprattutto a casa non li ascoltano. Ma il modo migliore per farvi ascoltare non è alzare la voce, è abbassarla. Non è ripetere le cose cento volte, è dirle una volta sola. Regola numero 5. Collabora. La conversazione è una cosa che si fa in due, anche se qualcuno ti sta raccontando un episodio o esponendo un suo pensiero. Collabora con domande intelligenti e inerenti. Certo, per fare domande intelligenti è richiesta l'intelligenza. Bisogna partecipare. Dovrebbe venirti naturale fare domande, se sei curioso. Se ti limiti a dire solo sì, no, non è una conversazione. E ve ne andrete a casa tutti e due un po' delusi. Numero 6. Collabora. Non è una gara. Se uno è triste e si sfoga del suo lavoro o di un parente che gli è venuto meno, dire che è successo anche a te non aiuta in nessun modo a sentirsi meglio. Smettila di paragonarti. Quando ti parla è il momento del tuo interlocutore. Non è il tuo momento sempre. Ultimo consiglio. Regola numero 7. Conta fino a 20 prima di cambiare argomento. A me capita molto spesso che dopo aver comunicato qualcosa, la persona che mi sta di fronte mi inonda di parole un secondo dopo. A proposito, volevo anche dirti, non c'è nessuna cosa a proposito. Abbiamo detto qualcosa? Memorizzalo. Basta. Se tu mi spieghi, per esempio, dove io in un'occasione ho sbagliato, devo stare zitto, devo ascoltare, devo darti il tempo a te di capire che ho sentito quello che mi hai detto e il tempo a me di comprendere davvero e di ricordarmelo. Viceversa, se io rispondessi come una pallina da ping pong un secondo dopo, non solo non ricorderei mai ciò che mi è stato detto, non lo interiorizzerei, ma tu non avresti la soddisfazione di avermi parlato. Oltre a queste ci sarebbero mille altre regole, ma elencarle tutte è impossibile. Del resto il buonsenso non si può insegnare, ma come sarebbe bello uscire di casa e scoprire che è tornato bello parlare con le persone, prendersi un caffè insieme. Quanto meno soli ci sentiremmo.